Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale e allora andiamo subito con i titoli degli argomenti che tratteremo in questa puntata. E' stata eletta presidente Elena Meini della Lega, vicepresidente Lucia De Robertis del Partito Democratico, infine vicepresidente e segretario Maurizio Sguanci di Italia Viva. Come da impegno preso in Consiglio regionale in pochi giorni si è insediata la Commissione, è stata eletta la collega Elena Meini presidente, a lei auguri di buon lavoro, questo è un lavoro che dobbiamo mettere a disposizione di tutte le cittadine e di tutti i cittadini della Toscana. Il dato più importante è che non c'è stata differenza tra le forze politiche, qui va innalzato un muro contro la criminalità organizzata, la Toscana è sempre stata una terra che questo muro l'ha avuto molto alto e gli eventi delle ultime settimane ci fanno preoccupare, ci fanno in profondità, audisca tutti i soggetti che possono essere interessati e costruisca le condizioni perché la Toscana sia sempre più una terra libera dalle infiltrazioni mafiosi. Mi aspetto sicuramente di partire con una chiarezza su quella che è stata l'inchiesta che ha travolto purtroppo la nostra regione, però non ci fermeremo assolutamente lì perché purtroppo lo abbiamo visto, in Toscana la mafia c'è, esiste e il compito della Commissione dei consigliari regionali deve essere quello di far sì che si applichino, si studino delle nuove norme per far sì che tutto ciò non si ripeta dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale, soprattutto per il periodo di pandemia che stiamo attraversando, la crisi economica che ci ha travolto purtroppo attira anche questa criminalità organizzata. Quindi il nostro compito in primis sarà quello di tutelare il tessuto economico della regione toscana, studiare il mondo imprenditoriale e far sì che ulteriori infiltrazioni mafiosi non si ramificano nella nostra regione. Che la regione metta in atto quelle procedure, quelle attenzioni, quelle modifiche normative laddove fossero necessarie per evitare che chi molto più bravo di noi a volte riesce a infiltrarsi nelle maglie delle leggi, dei regolamenti, delle delibere, delle interpretazioni. Io mi auguro questo, di riuscire attraverso la deduzione di ascoltare tanti soggetti e di capire se la normativa regionale davvero riesce a mettere in sicurezza questa regione dalle infiltrazioni mafioso perlomeno fa quello che può fare rispetto alla capacità e alla possibilità che abbiamo noi di normare tutta una serie di attività per evitare che chi vuol fare della regione una terra dove tutto si può fare ha sbagliato regione. Il nostro impegno sarà non tanto quello di occuparci dei fatti o corsi perché quello è compito dalla magistratura, ci sono indagini in corso quindi non saremo noi ad intralciarla. Cercheremo di contattare tutte le prefetture per capire lo stato dell'arte che la fragilità in questa regione in qualche modo ha apportato. La pandemia ha apportato questa fragilità nella regione. Chiaramente in un momento di così grande difficoltà economica per le cosche mafiose è assai più facile penetrare il tessuto produttivo. Noi cercheremo di capire quali sono le criticità in modo da poterle poi prevenire portandole alla luce del sole e poi adottare tutti quelli che saranno i provvedimenti e noi riterremo necessari in consiglio affinché tutto questo venga scongiurato. Noi come tutti i toscani ci aspettiamo trasparenza, ci aspettiamo informazioni, ci aspettiamo di capire la realtà non soltanto dai rapporti economici che vedono purtroppo coinvolta anche la mafia, l'andrangheta nel territorio toscano, quanto di capire l'entità del disastro ambientale che determinate operazioni hanno comportato e conseguentemente ci aspettiamo naturalmente di avere dati, notizie, informazioni che siano utili al governo regionale toscano non solo per tagliare definitivamente i cordoni con alcuni ambienti malavitosi ma anche soprattutto per garantire ai cittadini e alle imprese pulizia, anche pulizia ambientale e soprattutto la possibilità di operare in un sistema economico corretto. Presidente e ufficio di presidenza hanno incassato il solo voto contrario di Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Una scelta non sulle persone ma sul metodo ha spiegato la capogruppo Pentastellata lamentando ancora una volta il mancato coinvolgimento del Movimento nel confronto con le opposizioni. Ancora una volta è stato utilizzato il metodo di escludere il Movimento 5 Stelle dalla discussione che è diventata monopolio da una parte della coalizione di maggioranza e dall'altra dalle opposizioni del centro-destra. La cosa curiosa è che l'unico gruppo regionale che sicuramente non ha avuto nessun contatto di nessun tipo anche durante la campagna elettorale con chi in questo momento è oggetto di inchiesta è stato proprio il Movimento 5 Stelle, quindi probabilmente l'unico che poteva garantire un'assoluta lontananza dai temi molto difficili che saranno trattati in questa commissione, alla quale comunque auguro buon lavoro e a cui do subito una prima indicazione secondo me di come si dovrebbe impostare. Cercare di fare un'esatta panoramica della situazione ambientale in Regione Toscana che ha coinvolto non soltanto lo scandalo che è, ma anche altre iniziative dove ci sia un coinvolgimento della criminalità organizzata e cercare anche di fotografare quelle che sono le carenze del Consiglio regionale e della Giunta per quanto riguarda la permeabilità a fenomeni di tipo corruttivo ma anche e soprattutto di infiltrazione di organizzazioni malavitose e connotazioni di carattere mafioso. E su questo devo dire che è un peccato non aver sfruttato le indicazioni che sono arrivate dalla Fondazione Caponnetto e dalle molte persone che sono state audite nel 2018 durante la commissione di inchiesta rifiuti all'epoca presieduta dal Movimento 5 Stelle. Una legge per celebrare il sommo poeta autore della Divina Commedia e simbolo della cultura italiana nel mondo. A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri scomparso nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321 il Consiglio regionale celebrerà questo anniversario organizzando eventi e promuovendo in particolare mostre ed esposizioni, iniziative di studio e di ricerca, convegni, presentazioni di libri, laboratori didattici e spettacoli. È stata approvata la legge con il voto favorevole di PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, il voto contrario di Fratelli d'Italia e Forza Italia e l'astenzione della Lega. Questa legge è importante, io l'ho anche firmata e in commissione ho votato favorevolmente. L'ho votata, cioè l'ho firmata perché Dante non rappresenta solo la Toscana ma direi che rappresenta l'Italia nel mondo. 700 anni sono tanti e è ancora molto attuale. Infatti diciamo che stiamo passando dall'inferno al pubblicatorio con quello che ci è successo in quest'ultimo anno e si spera veramente di rivedere le stelle presto. Come lui è entrato nella selva oscura, noi siamo entrati in questo periodo di Covid e speriamo presto di uscirne. Poi per il discorso dei 100 mila euro che hanno stati stanziati è venuto fuori qualche problema perché abbiamo scoperto che già la Giunta ne aveva stanziati 250 mila. Quindi abbiamo chiesto se si poteva in qualche modo eliminare questo punto dalla proposta di legge, ci è stato detto di no, quindi ci siamo astenuti. Però per me Dante è sempre il suo poeta. Noi abbiamo scelto di votare contrario all'istituzione della legge su Dante. Siamo certamente favorevoli a ricordare Dante a 700 anni dalla sua morte. Sappiamo anche che l'infrastruttura più importante e questo Paese ha l'infrastruttura culturale e su questo dobbiamo puntare. Però abbiamo anche consapevolezza di cosa stiamo facendo. Mettere oggi 100 mila euro del Consiglio regionale dei soldi dei cittadini per ricordare Dante quando la Giunta ne ha già messi 200 e quindi sommandoli si arriva a oltre 300 mila euro a noi sembrava eccessivo. Le famiglie non arrivano a fine mese, molte delle nostre aziende stanno chiudendo, molte delle attività commerciali non riusciranno a riaprire post pandemia. Crediamo che le risorse debbano essere non soltanto gestite come il buon padre di famiglia ma anche in maniera molto oculata. Ecco perché abbiamo votato contrario. Perché la legge è tardiva, perché c'è già la Giunta regionale che ha investito 200 mila euro. Se si vuole fare qualcosa su Dante di estremamente serio lo si doveva fare prima. Guardate il 25 di marzo è il Dante Day. Ecco, il 25 di marzo è già passato. Dante muore nella notte fra il 13 e il 14 di settembre. È giusto che il Consiglio regionale lo ricordi con una seduta solenne entro il 30 di settembre, però ci sembra davvero eccessivo mettere 100 mila euro in sei mesi. Perché se andiamo a vedere sono semplicemente sei mesi quelli è l'arco del tempo in cui noi potremmo fare delle iniziative. Ecco, la Giunta fa bene a stanziare 200 mila euro per ricordare Dante, ma ci sembra che il Consiglio regionale non debba in questo momento metterne altri 100, ma quei 100 mila euro debbano andare a sostenere famiglie e imprese che sono estremamente in difficoltà. Una risoluzione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro presentata da Ilaria Bugetti del Partito Democratico, presidente della Commissione Sviluppo Economico e Rurale, insieme alla presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni ed altri consiglieri DEM. Una risoluzione che non è stata posta in discussione dal vicepresidente Scaramelli, che in quel momento presiedeva l'Aula e che ha chiuso la seduta non concedendo di andare oltre l'orario stabilito per il termine dei lavori. Abbiamo presentato, presentato prima firmataria insieme al presidente Sostegni, una proposta di risoluzione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, legata alla recente tragica morte di Luana, avvenuta in un'azienda di Montemurlo. Vicenda che peraltro ha visto dichiarare da parte della Regione Toscana il lutto regionale. Questo atto non è stato messo in discussione, ed era l'ultimo atto all'ordine del giorno perché la seduta è stata chiusa alle 13.03, peraltro una seduta che ha aperto stamattina alle ore 10. Abbiamo più volte prolungato i lavori di consiglio di diversi minuti e questo secondo me era doveroso, dignitoso, approvarlo poiché riguarda un tema importante come la sicurezza dei luoghi di lavoro. Il presidente del consiglio che in quel momento presideva Stefano Scaramelli ha chiuso il consiglio senza consentirci di discutere una proposta di risoluzione così importante, che peraltro impegna la Giunta, impegna la Giunta a continuare sui progetti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare a riprendere i corsi di formazione che sono stati sospesi a causa del Covid, a riprendere la cultura della legalità, della sicurezza, a stanziare risorse e a inserire nel nuovo piano regionale di sviluppo e ovviamente a coinvolgere le commissioni competenti. Ribadisco e ho un profondo rammarico e dissenso nel non aver consentito al Consiglio di discutere quest'atto in questo momento. Lo ripresenteremo il prossimo Consiglio, ma è un atteggiamento che ritengo profondamente irrispettoso per il caso di Luana e per tutte le morti su luoghi di lavoro. Se la presidente Bugetti aveva a cuore la propria mozione avrebbe potuto chiedere a tutti di condividerla al fine di anticiparla, ha replicato il vicepresidente Scaramelli, così da essere sicura che venisse votata prima della fine della seduta. Questo prevede il regolamento dell'aula consigliare e il rispetto delle regole bipartisan che ci siamo dati per tutelare maggioranza ed opposizione, conclude Scaramelli. Non è stata discussa perché il presidente del Consiglio regionale, in quel momento Stefano Scaramelli di Italia Viva, ha ritenuto di chiudere il Consiglio regionale prima che il Partito Democratico potesse presentare quella mozione, sulla quale serviva, va detto, non era una mozione all'ordine del giorno, quindi serviva comunque l'accordo di tutti i capi gruppo e per Fratelli d'Italia la discussione era assolutamente consentita e ci poteva essere, c'era la nostra disponibilità. Va detto anche che qual è stato il motivo che ha portato il Consiglio ad andare lungo e a sforare. Il Consiglio è andato lungo e ha sforato perché su due mozioni prima, per aspettare che il Partito Democratico potesse raggiungere la maggioranza e bocciare una proposta di Fratelli d'Italia, la votazione è durata a oltranza fino a che non arrivavano ad essere 16 in aula per raggiungere la maggioranza, fino a che i consiglieri non finivano di prendere il caffè e tornavano in aula. Se una votazione anziché durare un minuto dura 10, è ovvio che poi si sfora. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione e cronache e commenti torna la prossima settimana. Grazie a tutti.